Oh, è il caricato. Vagia, porra. Cosa? Sento is up. Cosa? Di fatto ne dio! Sì, elevando sempre il techo su gente. Stop! No, 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 no. Vai, vai, vai. Fantastico, il caricatio. No, no, no. No, no, no. Già, un'esercia. Calipa Dio ha avuto un po' di Qalipa Dio, un po' di Qalipa Dio. Calipa Dio, un po' di Qalipa Dio.